E il bicchiere di vino a cena, e lo spritz con gli amici, e le bevute quando si va fuori per socializzare. Ma è vero che un po' di alcol fa bene al cuore e al cervello, come abbiamo sentito dire spesso da parenti e opinionisti più o meno qualificati? E soprattutto, sono vere quelle ricerche che dicono che un po' di alcol ci aiuta ad essere più creativi, addirittura più geniali? Come faceva Hemingway? Non si beve dopo le otto di sera e nei weekend? No. Ora, io l'alcol non lo reggo, quindi la risposta per me non fa la differenza, non berrei comunque. Ma non sono in pochi a credere che un bicchiere ogni tanto faccia bene, quindi cerchiamo di capire esattamente dove sta la verità scientifica. Qualche tempo fa abbiamo parlato di come il consumo di sigarette influisca sullo studio o sulla cognizione in generale. E abbiamo visto che l'effetto positivo nell'immediato viene poi totalmente annichilito dai disastri causati sul lungo termine. E nessuno, nessuno verrà mai a controvattere sostenendo che le sigarette siano invece un toccasana. Con gli alcolici invece il discorso è leggermente diverso, soprattutto per via del fattore sociale. Un fattore questo che ci fa insistere nella convinzione che bere con moderazione è un modo per stare in compagnia e non fa male a nessuno. Ecco, non è proprio così. Si parla molto dei danni dell'alcol, è vero, ma solo per quanto riguarda gli effetti sul fegato o sulla sfera psicologica, oppure tirando in ballo problemi di intossicazione vera e propria a cui seguono incidenti gravi. Insomma, si parla solo e soltanto dei danni che derivano da un consumo molto frequente. Quando invece si parla degli effetti di un consumo minore, le cose si fanno un po' più complicate, i pericoli diventano più subdoli e spesso non vengono neanche riconosciuti. Perché siamo onesti, chi è che vuole mettersi a pensare che l'aperitivo settimanale possa diventare un problema? Nessuno. E invece, fino a qualche tempo fa circolavano studi a favore di un consumo moderato di alcol, sostenendo che difendesse dal declino cognitivo. Ecco, queste ricerche suggerivano addirittura che gli studenti potessero sfruttare gli effetti degli alcolici leggeri, che secondo loro, secondo questi scienziati, favorirebbero un certo fattore creativo e di problem solving, grazie all'inibizione degli schemi logici. Peccato però che tutto questo sia stato smentito brutalmente. Se seguite già il mio canale lo sapete, ma lo dico per chi mi vede per la prima volta, l'unico modo per studiare meglio è avere un metodo di studio. Punto. Sarebbe bello se esistesse una qualche sostanza che sblocca capacità cognitive nascoste, la pillola di Limitless, la vita sarebbe più facile per tutti. Per voi, certo, ma anche per me. Invece ho dovuto studiare anni e girare ventimila ore di videocorso per mostrarvi un metodo basato sulla verità dei fatti, sul funzionamento del cervello, sull'unico vero modo in cui impariamo. Ma torniamo al perché non posso consigliarvi alcolici invece di un metodo di studio vero. In una ricerca recente, la più vasta del campo, un team di scienziati dell'Università della Pennsylvania ha trovato la prova di alterazioni del cervello dovute all'alcol anche in chi beveva poco o comunque nei limiti considerati standard. Rispetto a una persona che non beve affatto, il cervello dei bevitori moderati era mediamente più vecchio di sei mesi e l'effetto chiaramente peggiorava all'aumentare delle quantità di alcol consumate. E questo è sempre vero, le sostanze hanno degli effetti anche collaterali, dose dipendenti. Altri studi hanno evidenziato che per gli studenti tutto questo ha un impatto diretto sui risultati accademici. Gli studenti che bevono, anche poche volte alla settimana, hanno difficoltà linguistiche di memoria, di attenzione e, cosa ancora più grave, di riposo. Sì, perché la scienza ci suggerisce che il consumo di alcol è responsabile di una significativa diminuzione delle ore di sonno dormite. Chi beve dorme meno e di conseguenza si trascina stancamente poi per tutto il giorno, con un calo drammatico di concentrazione e capacità di immagazzinare nuove informazioni. E questo processo intacca anche le attività precedenti alla bevuta. Lo vediamo tra un minuto. Per adesso riassumiamo così. Le ricerche più decenti asfaltano quelle che sostengono il consumo moderato dell'alcol a scopi creativi a 360 gradi. Anche perché il modo in cui erano stati condotti quegli studi era piuttosto opinabile. Non si teneva conto di fattori legati al luogo di provenienza, al livello di istruzione, al genere e a mille altri elementi che potessero identificare meglio il campione scelto. Un disastro. Ora, abbiamo detto che l'alcol rovina il sonno e questo ci rende sostanzialmente degli zombie il giorno dopo dal punto di vista cognitivo, anche se abbiamo bevuto poco. Ma non è l'unico danno che fa. L'alcol infatti influisce negativamente sulla fase REM, quella in cui andiamo a solidificare i ricordi tra l'altro. Nei casi più estremi questa fase viene del tutto bloccata. Se avete visto il mio video sull'importanza del sonno sapete che è proprio durante la notte che consolidiamo quello che abbiamo studiato. Perciò se il sonno è disturbato, il processo di apprendimento non si completa e voi andate male all'università. E tutte le informazioni acquisite prima di bere vengono perse. Non solo. L'alcol anche in piccole quantità ha un impatto diretto sul rilascio di glutammato, un neurotrasmettitore che costituisce la base per alcune funzioni del cervello, come la memoria e il ragionamento. Per non parlare poi di che cosa succede quando i bicchieri settimanali cominciano ad aumentare. Ecco, in quel caso si va ad intaccare direttamente la struttura dell'ippocampo, una parte del cervello che influisce soltanto sulla formazione dei ricordi, lo spostamento di informazioni nella memoria a lungo termine e l'orientamento spaziale. Una cosa da niente. Non credo che ci sia bisogno di ribadire che con l'alcol non si scherza. Ma se mettiamo insieme tutti questi elementi diventa chiarissimo che vale la pena di valutare meglio anche le bevute occasionali. Soprattutto quando ci si trova in periodi di studio particolarmente intenso, in sessione d'esame o quando ci si sente già in difficoltà a gestire la concentrazione, la stanchezza, lo stress, il carico mentale che ci si porta dietro. Queste sono tutte cose che vanno valutate sempre. Sono aspetti che devono essere considerati nelle varie fasi di studio. Per i corsisti di Sistema DC questo non è un consiglio ma una regola tassativa. E se volete informazioni su Sistema DC, il mio videocorso completo, trovate il link qui sotto. A questo punto la panoramica è chiara. Studio e alcol non vanno bene insieme. E io non sono qui per farvi la morale, per dirvi di diventare astemi per carità, ma sono qui per dirvi quali sono, secondo la scienza, gli effetti dell'alcol sulla nostra capacità di studio e di ragionamento. Questo sì, posso farlo. E poi voi potete farmi sapere che cosa ne pensate. E tra un bicchiere e l'altro ci rivediamo al prossimo video. Grazie a tutti.